Contro gli sporcaccioni a ribellarsi adesso sono i cittadini. Andria, quartiere San Valentino, 3 giugno 2019. Le auto ancora non volano come aveva previsto un noto film. E l'uomo assume comportamenti sempre più stupidi, come questo di mezza età che potrebbe conferire rifiuti gratuitamente presso l'isola ecologica e invece è colto sul fatto mentre libera il suo motocarro da rifiuti numerosi, ingombranti e pericolosi. Ferraglie e materassi, pneumatici e mattoni, già fanno da cornice allo scenario in cui si inserisce questo ennesimo gesto di inciviltà che i residenti del quartiere non vogliono più tollerare perché sanno, per esperienza, che dopo aver gettato i rifiuti nelle campagne, quei rifiuti potranno sparire dalla vista solo se finiranno in fumo. E così un cittadino stanco di dover sopportare un via vai senza sosta davanti alla propria abitazione dove in molti scaricano abusivamente decide di affrontare lo sporcaccione di turno. Grazie. com'è scena un riso perché quando vado a piacere, rimarrò fuori, un film venendo a casa, un film tra il cappello, create un po' in mano e non c'è un bacio. Qui a San Valentino latitano le fototrappole e i controlli e se il quartiere desta meno attenzioni del resto della città, i cittadini non sono di serie B. Così pur con un linguaggio colorito, ma restando nei confini dell'educazione, evitando scontri e offese, con fermezza segna un punto contro quei soggetti che con comportamenti incivili come questo violano il territorio, la salute dei cittadini, piccoli e grandi, sprecando energie per un servizio che presso l'isola ecologica è gratuito, o meglio, già pagato con le tasse.